Un'altra bella notizia, il Comune di Fanno ha avuto la missione al finanziamento del Ministero dell'Istruzione di un secondo importante progetto, quello del nuovo asilo nido di Vallato. Parliamo di 1.500.000 euro di finanziamento per la realizzazione di tre sezioni di nido, quindi di servizio 03, che si vanno ad aggiungere all'altro 1.400.000 euro che, sempre nell'ambito dei fondi PNRR, il Comune di Fanno ha avuto per la realizzazione, in quel caso, di un nuovo asilo nido nel quartiere di Bellocchi. C'è un aumento complessivo del 30% della capacità di accoglienza nei servizi 03 anni della nostra città e si tratta di un investimento pubblico veramente eccezionale e un po' contro i tempi, che però riafferma ancora una volta la centralità dei servizi educativi nello sviluppo della nostra città. 6 milioni di risorse per quanto riguarda il mondo della scuola, per accogliere quindi una nuova didattica e sicuramente rendere più sostenibili e accoglienti le nostre scuole. Riguardano tre plessi nello specifico, parliamo della scuola, una nuova scuola materna di Carrare Cucurano, che accoglierà 180 bambini, quindi 180 famiglie, con 5 sezioni. All'interno ci sarà anche un'aula magica, proprio per cercare di favorire anche tutto quello che è la didattica e tutto un nuovo sviluppo di evoluzione, diciamo, culturale dei bambini. Oltre questo avremo un refrettorio con all'interno una cucina dove i bambini potranno anche mangiare e tutti i lavori dovranno essere appaltati entro marzo, il 31 marzo del 2023. Quindi all'inizio del prossimo anno dovremo approvare l'esecutivo e correre velocemente per realizzarli. È importantissimo dare una risposta di questo tipo all'interno del nostro tessuto comunale, proprio perché la nuova edilizia andrà a sostituire quella invece che ha delle carenze. Lo abbiamo visto col terremoto, spesso siamo preoccupati perché magari dobbiamo rivedere ogni volta all'interno di quelle che sono le strutture, e intervenire con delle premure all'ultimo minuto, ma sicuramente premure importanti che ci portano poi a oggi invece a dare risposte di piena sicurezza.